Musica Buonasera dal Tg Max, Vertice questa mattina a Teramo, convocato dal presidente Walter Catara per l'emergenza maltempo alla riunione tecnica operativa con i sindaci del territorio provinciale, ha preso parte anche il governatore Chiodi, la regione Abruzzo ha dichiarato Chiodi non dispone di risorse per assicurare un contributo straordinario a integrale ristoro dei danni, ma stanzierà 2 milioni di euro per il sostegno al sistema delle imprese e farà tutto il possibile per accelerare il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del governo. Riunione tecnica operativa questa mattina a Teramo, convocata dal presidente della provincia Walter Catara per fare un primo punto sull'emergenza maltempo e prendere provvedimenti. Alla riunione, in cui sono intervenuti anche i sindaci del territorio, hanno preso parte anche l'assessore regionale alla protezione civile Giuliante e il governatore Chiodi. La regione Abruzzo ha detto Chiodi non dispone di risorse per assicurare un contributo straordinario a integrale ristoro dei danni, ma stanzierà certamente 2 milioni per il sostegno al sistema delle imprese e farà tutto il possibile per accelerare il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del governo, dopo aver ottenuto da tutti i comuni e dalla provincia una dettagliata rendicontazione che invito a fornire al più presto. Il presidente ha ricordato che in casi come questi i sindaci possono eseguire lavori di somma urgenza per il ripristino di situazioni critiche, disponendo l'impiego di fondi che potranno essere regolarmente rendicontati e che non verranno conteggiati nel cosiddetto patto di stabilità. Chiodi ha anche annunciato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro per la prevenzione dei rischi di natura idrogeologica. È anche vero, ha aggiunto, che non siamo di fronte ad eventi straordinari perché accadono spesso. Purtroppo, ha concluso, viviamo in un territorio vulnerabile e la politica deve assumersi le proprie responsabilità. La vulnerabilità del territorio è un problema che richiama una serie di responsabilità per la sensibilità e per la classe politica che ha avuto nel passato rispetto a quelli che sono i rischi. Oggi le risorse sono molto più limitate del passato. Voi sapete che oggi dobbiamo spendere la metà di quello che si spendeva nel passato. Almeno la Regione Abruzzo spende esattamente la metà di quanto ogni governo regionale ha potuto spendere dal 2000 al 2008. no, nel 2008 già un po' di meno, quindi al 2007, per forza di cose perché abbiamo quelle montagne di debito che purtroppo ce lo impedisce. Ma detto questo, sul patto di stabilità alla deroga, guardate le resistenze, adesso lo vedo nella conferenza delle regioni, sul patto della stabilità alla deroga, per poterla dare il governo, di questa volta riceveva dall'Unione Europea. Il problema è che non la riceve dall'Unione Europea. Il problema è questo, quindi noi adesso stiamo vedendo se come governo regionale riusciamo a mettere un sistema per cui stiamo lavorando per un patto di stabilità regionale che possa rendere possibile compensare le situazioni tra i vari enti, in maniera tale da evitare che ci siano dei comuni che hanno magari dovuto rompere il patto di stabilità e altri invece che non l'hanno fatto e che stanno per delle condizioni magari migliori perché non sono indebitate come il comune che si trova. Sono delle situazioni oggettive, ci serve di compensare queste situazioni facendo un patto regionale come se fossimo una comunità che tiene conto anche di coloro che magari sono stati meno bravi nel passato. E purtroppo il maltempo ha fatto registrare anche un morto. Si tratta di Pietro di Sabatino, 75 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nel cavalcavia allagato della Statale 80 all'altezza del casale autostradale Mosciano Teramo. Il noto gallerista teramano era di ritorno da Pescara quando, uscendo dall'autostrada, ha deciso di imboccare il sottopasso nella speranza di riuscire a guadare il lago per raggiungere Teramo. Invece, a causa del fango, la sua auto non ha superato il sottopasso ed è stata inghiottita. Di Sabatino ha tentato in vano di liberarsi provando ad uscire dal finestrino ma la pressione dell'acqua gli ha impedito di salvarsi ed è morto annegato. Il sostituto procuratore Rosati ha disposto comunque per domani mattina l'autopsia. Chiuso il ponte di via Custosa che unisce l'abitato alla zona industriale di Chietiscalo a causa del crollo di un muro della lunghezza di circa 40 metri per una frana causata dal maltempo. Quest'ultima ha interessato anche una cabina del gas metano e ha provocato il totale dissesto di un palo di conduzione elettrica e del relativo pozzetto della pubblica illuminazione. Per questo la zona industriale resterà al buio per qualche giorno. Rifiuti. La Regione Abruzzo ha avviato la programmazione di gestione e smaltimento dei rifiuti che ora deve essere attuata da comuni e consorsi. È necessario un cambio di passo, ha dichiarato l'assessore di Dalmazio. Non sono più tollerabili atteggiamenti di alcuni comuni che fanno scarica barile sulla regione. La denuncia del Tg Max ci può... C'è stato un errore. Eccolo il servizio. Grazie. È di 400.000 metri cubi per un periodo fino alla primavera 2012 l'autonomia della Regione Abruzzo sullo smaltimento dei rifiuti. Per evitare emergenze, la Regione ha presentato la programmazione 2011 relativa allo smaltimento dei rifiuti. Una programmazione, ha dichiarato l'assessore all'ambiente di Dalmazio, figlia della delibera di giunta di fine anno, che ha dato la possibilità di aumentare la capacità delle discariche del 10%, potenziare gli impianti e la raccolta differenziata. Attualmente, però, solo Spoltore ha incrementato del 10% la propria discarica, nonostante la Regione abbia autorizzato tutti i lavori. L'attuale situazione di criticità che si registra in Regione, aggiunge, è dovuta alla ridotta autonomia di smaltimento, sono solo 6 le discariche attive, al mancato funzionamento degli impianti di trattamento di Notaresco e Castel di Sangro e alla mancata realizzazione di tre discariche, Gioia dei Marsi, Atri e Notaresco, già autorizzate per circa 900.000 metri cubi. Ora è necessario il cambio di passo, dichiara l'assessore, non sono più tollerabili atteggiamenti di alcuni comuni che fanno scarica barile sulla Regione. Non è tollerabile che, come è accaduto, per fortuna ancora sporadicamente, si alzino voci da parte dei comuni tendenti ad una logica di scarica barile nei confronti della Regione o di chissà chi altri. La Regione ha programmato, adesso i consorsi devono eseguire, i comuni fanno parte dei consorsi, è il caso che tutti quanti insieme capiamo che la gestione della criticità va fatta sulla logica di un principio di responsabilità condivisa. Per fronteggiare un'eventuale situazione emergenziale, l'assessore ha chiesto aiuto alle Regioni di prossimità, Molise e Marche, per individuare disponibilità extra Regione di alcune discariche pronte ad ospitare rifiuti. Stiamo lavorando per dare anche una cornice istituzionale con accordi di programma con le Regioni di prossimità, cioè il Molise e le Marche, proprio per prepararci eventualmente, nell'eventualità di un'emergenza, ad avere delle disponibilità. Chiaramente l'emergenza si determina nel momento stesso in cui questo piano e questa programmazione regionale non viene poi alla base dei consorsi e dei comuni portata avanti. È di cinque feriti di cui quattro bambini. Il bilancio di un incidente è avvenuto questa mattina tra uno scuolabus e un camion rifiuti. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Orsogna a Guardia Grele intorno alle 9 per cause, ancora in corso di accertamento. Stando a quanto si apprende dalla Polizia dell'Unione dei Comuni della Maruccina, sarebbero cinque feriti trasportati all'ospedale di Ortona dal 118. Tre bambini sono stati subito dimessi, mentre per l'accompagnatrice dello scuolabus e per un bambino è stato necessario il ricovero per le scoriazioni riportate. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il camion dei rifiuti sarebbe uscito da una strada secondaria per immettersi sulla provinciale. L'autista dello scuolabus comunale di Orsogna non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto. La politica. Il sindaco di Vasto Luciano Lapenna ha nominato cinque assessori, Vincenzo Sputore, Lina Marchesani, Nicola Tiverio, Anna Suriani e Marco Marra. Le deleghe saranno assegnate nella prossima seduta di giunta. Il sindaco di Vasto Luciano Lapenna ha nominato questa mattina cinque assessori. Si tratta di Vincenzo Sputore, Lina Marchesani, Nicola Tiverio, Anna Suriani e Marco Marra. Le deleghe, fa sapere l'ufficio stampa del comune, saranno assegnate nella prossima sede di giunta. Il sindaco, che si era dimesso il 14 febbraio scorso, in polemica con la presentazione della candidatura alle primarie del Partito Democratico del presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Forte, aveva revocato le dimissioni stesse nove giorni dopo. Esce dalla giunta l'assessore alle finanze, Domenico Molino, che prima unico candidato con il sindaco uscente, si era poi fatto da parte per far posto a Forte, provocando la reazione di Lapenna. Resta da capire se il sindaco adesso andrà a nominare gli altri due dei sette posti disponibili in giunta. L'Italia dei Valori ha rinunciato ufficialmente al mandato, confermando l'appoggio esterno all'amministrazione in carica. Proprio questa mattina, frattanto, il ministro dell'Interno ha reso noto che nei prossimi giorni firmerà il decreto di indizione dei comizi elettorali per le amministrative, che per il Chietino si svolgeranno, tra l'altro, a Vasto e Lanciano. Confermate le date, primo turno 15 e 16 maggio, con eventuale ballottaggio il 29 e 30 maggio. La pagina del lavoro, aprire un tavolo per la Sevel di Atese, è stabilire quali saranno i nuovi investimenti, la nuova occupazione e i salari per gli addetti. La richiesta indirizzata alla Fiat è stata avanzata dal segretario nazionale Fim Cisle, Bruno Vitali. Recuperare contratti a termine interinali, stabilire nuovi investimenti e nuovi salari. Sono questi gli obiettivi sui quali la Sevel di Atese dovrebbe puntare, secondo quanto propone, Bruno Vitali, segretario nazionale di Fim Cisle, oggi a Pescara, proprio per parlare dello stabilimento della Val di Sangro. Si tratta di aprire un tavolo per stabilire la quantità dei nuovi investimenti sulla Sevel e quindi l'occupazione collegata e il salario collegato. Noi siamo pronti a fare accordi simili a quelli fatti in precedenza. Io devo dire, devo sfatare le bugie che sono state dette. Non è stato messo in discussione nessun diritto. Lo sciopero si può fare, la malattia c'è. È stata fatta una campagna mediatica estremamente distorta. C'è in questi accordi precedenti un'autoregolamentazione tra le parti di queste materie, ma noi abbiamo piena disponibilità dei diritti. Io uso dire che a Pomigliano avevamo un cadavere che non camminava nemmeno più, insomma, e a Mirafiori c'era un malato terminale, perché i modelli erano a finire. Gli accordi hanno risuscitato il cadavere di Pomigliano, perché era chiuso, e hanno dato un futuro a Mirafiori. Qui, in realtà, il lavoro c'è sempre stato, anche se nei due anni precedenti si è sentita molto la crisi, c'è stata la casa integrazione. Il segretario ha poi annunciato che la SEVEL sarà uno degli argomenti in agenda nell'incontro che il prossimo martedì si terrà a Torino. Ma un importante supporto, secondo Vitali, deve arrivare innanzitutto dal governo locale. Il governo regionale, le amministrazioni locali hanno un grande potere di favorire gli investimenti attraverso tutta una serie di operazioni, che possono essere quelle del miglioramento della logistica, per esempio, o anche dell'accesso al credito da parte delle aziende di fornitura. Per esempio, tutti questi aspetti sono importantissimi. Ecco, tutto fa come si dice. Parliamo ancora di lavoro nel prossimo servizio, ma ci spostiamo all'aeroporto d'Abruzzo. I lavoratori di Arwan Technic, la società di manutenzione degli aerei, la cui sede abruzzese rischia di chiudere a fine mese, hanno tenuto questa mattina, dalle 10 alle 12, un picchetto davanti all'aeroporto di Pescara per denunciare la loro situazione e i problemi che potrebbero derivarne anche per lo scalo adriatico. Al fianco dei lavoratori sciopero, anche il segretario regionale FIOM CGL, Nicola Di Matteo, che ha illustrato lo stato dell'avvertenza. Abbiamo fatto due ore di sciopero per avere un incontro con la stamba, con i mass media, per far capire un po' a tutti gli abruzzesi, soprattutto anche alle forze politiche, alle istituzioni, qual è lo stato della trattativa, che come è noto, l'azienda ha avviato una procedura per dismettere l'attività dal primo di aprile. Siccome stanno venendo fuori anche delle novità, degli interessi anche di alcuni imprenditori locali per rilevare l'attività e dare una prospettiva industriale, allora noi stiamo cercando di fare delle iniziative per far vedere come possa decollare questa trattativa. Lotto andremo alla Regione, chiederemo al Presidente della Regione di riceverci, anche alla politica tutta, di maggioranza e minoranza, per dire quali sono i problemi. Stiamo cercando di contattare questi imprenditori, di capire chi sono, quale volontà hanno e quali sono i problemi che pongono. E uno dei problemi fondamentali che loro pongono è comunque che se devono scendere in campo devono avere la possibilità di avere qualche altro anno di contratto di lavoro dalla CAI, dall'Alitalia. Quindi se la politica, le istituzioni vogliono fare gli interessi dell'Abruzzo, come dicono, come hanno detto Convegno della Convindustria qualche giorno fa, adesso è il momento di scendere in campo. Infiltrazioni d'acqua e degrado nella nuova ala del cimitero di Lanciano e per il Comune è in arrivo una petizione. La denuncia del Tg Max ci porta oggi in via della pace nella nuova ala del cimitero di Lanciano inaugurata dieci anni fa. Davvero una situazione disarmante di grande fatiscenza. Pierluigi Vinciguerra, consigliere dell'opposizione, porterà in consiglio comunale questa vicenda. Questa è una struttura, è l'ala nuova del cimitero del Comune di Lanciano, costata la bellezza di 750 milioni di vecchie lire, dieci anni fa è stata inaugurata, tutta in cemento armato, è stata collaudata, non so da chi è stata collaudata, ed ecco ci troviamo di fronte ad una struttura che oramai è diventata affatiscente. Sembra addirittura entrare nelle grotte del Cavallone, dove stalattiti, infiltrazioni di acqua, fili, plafoniere rovinate, completamente lasciate nel totale abbandono. È veramente vergognoso. Prima pensavamo che l'umidità scendesse dall'alto, e invece viene dal basso, se non so, dalle fontamente, da qualcosa, non lo so che sta succedendo. Ed è pronta una petizione? Eh, io la faccio. Non c'è dignità per queste persone che riposano qui. Abbiamo inventato una nuova ghigliottina. Chiaramente, il Pozzoluce presenta proprio una vetrata con delle grossi lesioni. normalmente la gente si affaccia, guarda, e potrebbero anche cadere questi vetri e tagliare direttamente il collo alla gente. Al giorno d'oggi è difficile anche morire. È meglio non morire. È meglio non morire, ma affittare i locuri, evidentemente, e non comprarseli. Restiamo a Lanciano, Domenico Cirugli il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano, Cirulli Odonto Iatra, è stato eletto dai consiglieri con sei voti su dieci. È Domenico Cirulli il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano. Cirulli è stato eletto dai consiglieri di Lanciano Fiera con sei voti a favore su dieci. Il nuovo presidente è anche consigliere comunale a Lanciano, iscritto al gruppo misto dopo essere stato eletto nel 2006 nella lista di Forza Italia. Nei giorni scorsi, i partiti di centrosinistra della provincia di Chieti denunciarono, in un esposto inviato anche al prefetto Vincenzo Greco, l'incompatibilità tra le due cariche del nuovo presidente di Lanciano Fiera. Sull'elezione a presidente di Cirulli, nominato consigliere della Fiera dal comune di Lanciano, si era espresso favorevolmente il sindaco Filippo Paolini, che nel mese di dicembre aveva revocato dall'incarico il presidente del CDA Donato Di Fonzo. Il tar di Pescara, cui era ricorso Di Fonzo contro il provvedimento di revoca di Paolini, ha ritenuto legittima l'iniziativa del primo cittadino di Lanciano, con sentenza pubblicata il 9 febbraio scorso. Siamo alla pagina sportiva per il calcio, ferma la prima divisione domenica prossima si giocherà il derby Giulianova Chieti, trasferta concessa solo ai titolari della tessera del tifoso. E la settimana che porta il Chieti da un derby all'altro, dal Celano e al suo 3-3 spettacolare a Giulianova, nell'obiettivo di confermarsi su ottimi livelli per quanto riguarda la prestazione, magari ottenendo un risultato diverso, sia a Carrara che in casa contro il Celano i Neroverdi hanno disputato due grandissime partite mettendo insieme però solo due punti in classifica a condannare i Neroverdi le solite palle inattive quasi le uniche pecche in cui i ragazzi di Vivarini subiscono gol visto che da azioni di gioco raramente nascono spazi utili. Giulianova Chieti sarà un derby ad alta tensione importantissimo, giallorossi dall'assoluto bisogno di punti e risalita col mezzo miracolo della salvezza diretta nel mirino. Neroverdi in piena lotta playoff in una stagione esaltante che promette un finale all'insegna delle forti ambizioni a braccetto con i cugini dell'Aquila. Tutti, squadra tecnici e dirigenti lavorano duro per il grande obiettivo che se poteva essere considerato insperato qualche mese fa oggi tutti vogliono fortemente. All'andata i Teatini vinsero per due reti a zero ma stavolta ci sarà da sudare contro un Giulianova che ha ritrovato entusiasmo e forti motivazioni grazie alla cura di Pino Di Meo. il successo sul San Marino ha rinvigorito la classifica e proprio il derby potrebbe rappresentare la chiave per il futuro giallorosso senza dimenticare che in casa contro l'Aquila e poi sul terreno del Noceto Marco Croce e compagni hanno perso immeritatamente trasferta aperta solo a chi possiede la tessera del tifoso previsto un buon pubblico col popolo giallorosso nuovamente al fianco dei colori del cuore. Ed è tutto per questo appuntamento con la nostra informazione prima di salutarvi vi informo che al termine del Meteomax la nostra rubrica di approfondimento Il Punto si occuperà della zona traffico limitato nel centro storico di Lanciano in studio per scoprire nel dettaglio il regolamento l'assessore comunale al traffico Graziella Di Campri grazie per essere rimasti con noi arrivederci a domani Grazie a tutti